...fà la penitenza, senza manca l'indulgenza, senza manca l'indulgenza. Se c'è che sopra i libri che discorren in latin, e di via, già non per la sandurina. E anche a vivere, c'è un lato di canisena, ed è fuori, è freddo che vera. Ed è fuori, è freddo che vera. E anche a vivere, è freddo che non si tratta, e di via, già non si tratta, e di via, già non si tratta. E anche a vivere, già non si tratta, e di via, già non si tratta, e di via, già non si tratta, e di via, già non si tratta. E anche a vivere, già non si tratta. E anche a vivere, già non si tratta, e di via, già non si tratta, e di via, già non si tratta. E anche a vivere, già non si tratta, e di via, già non si tratta. E anche a vivere, già non si tratta, e di via, già non si tratta, e di via, già non si tratta. E anche a vivere, già non si tratta, e di via, già non si tratta, e di via, già non si tratta. E anche a vivere, già non si tratta, e di via, già non si tratta, e di via, già non si tratta, e di via, già non si tratta. Grazie a tutti. Grazie a tutti, 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 ci vediamo alla prossima.